fosse stato sottoscritto anche dall'Iran. Alberto Negri, inviato sulle 24 ore anche e soprattutto nelle zone medio orientali. Buonasera. Buonasera a tutti voi. Alberto, insomma, vista così, ho capito la posizione dell'Arabia Saudita che dice anche l'Iran deve accettare il blocco, diciamo, l'aumento del tetto alla produzione. L'Iran dice che da poco è uscito dall'embargo e quindi rifiuta blocchi al proprio expo petrolifero. addirittura, se ho ben capito, ieri si è interrotta la discussione per otto ore per cercare un'intesa ma non ce l'hanno fatta. È un po' eccessivo chiamare scontro sunniti sciiti o siamo sempre lì? È uno scontro tra due potenze rivali, l'Arabia Saudita e l'Iran. Questo scontro è iniziato nel 79 con la rivoluzione dei Mancomeni. Allora i sauditi finanziarono insieme con le monarchie del Golfo con 50-60 miliardi di dollari la guerra di Saddam Hussein, contro l'Iran. Poi Saddam nel 2003 è caduto e i sauditi e il fronte sunnita hanno perso anche Saddam a Baghdad. E poi è cominciata la guerra in Siria. La guerra in Siria è stata un'altra sconfitta per i sauditi e il fronte sunnita perché Assad, come vedete bene, ha il potere. Quindi questo scontro sulle quote petrolifere va molto oltre ovviamente la questione delle quote di produzione ma investe tutti gli equilibri regionali e internazionali. Insomma siamo di fronte a una lotta all'ultimo sangue. in cui l'Arabia Saudita sembra disponibile a pagare un prezzo alto nel senso che già lo scontro braccio di ferro con gli Stati Uniti per buttare fuori dalla produzione insomma lo raccontamo molte volte lì il principio era che si voleva evitare che l'America diventasse quasi autosufficiente diciamo o comunque riducesse di moltissimo le sue importazioni di greggio con lo sguardo anche rivolto all'Iran. Mi sembra che l'Arabia Saudita dica vabbè a questo punto muoie Sanzoni con tutti i filistei piuttosto che concedere qualcosa all'Iran. L'Arabia Saudita si è sentita tradita dall'accordo del luglio scorso sul nucleare iraniano questo accordo rivelato dall'embargo petrolifero l'Iran e anche da buona parte delle sanzioni significa che l'Iran sta tornando più o meno a pieno titolo dentro la comunità internazionale e questa era la peggiore notizia che potesse accadere ai sauditi. Bene, ora i sauditi di un mornero, anzi plumbeo sono disposti ad andare fino in fondo cioè a continuare a produrre, a far calare i prezzi e a vedere chi avrà maggiore tenute risorse e magari anche più alleati ma questa battaglia la vincerà soltanto chi avrà la strategia più intelligente e sofisticata. E secondo te in questo momento chi ha la strategia più intelligente e sofisticata? Io capisco il rosicamento diciamo così saudita perché vede che l'Iran con la fine dell'embargo ci sono le potenze a partire dall'Italia che giustamente anche la Francia ci mancherebbe si precipita una terra, l'abbiamo raccontato molte volte le due missioni di Renzi con imprenditori e con ICE al seguito abbiamo parlato anche la settimana scorsa del centro NOMIS ma come osservatorio di dati economici c'è questa grande voglia di Iran che è comprensibile perché era rimasto escluso in questi ultimi anni però chi ha la strategia migliore? Perché in questo momento l'Abera Salute sembra avere una strategia molto a breve più che a lungo. Ma non c'è dubbio, tanto più che se aggiungiamo alla sconfitta in Siria quella della guerra in Yeme che è una sorta di Vietnam arabo dove nel portiere di casa i sauditi non riescono a vincere una guerra contro i ribelli sciiti uti voi vedete bene che i sauditi vedono materializzarsi un incubo perché gli iraniani sono riusciti in qualche modo a mantenere quell'asse che va tra Teheran, attraverso la Mesopotamia fino a Baghdad poi arriva Damasco e infine con gli esbollali ibanesi sulle sponde del Mediterraneo e vedete bene che se a questo aggiungete anche l'arco del Golfo gli iraniani sono riusciti comunque a mantenere le loro posizioni strategiche insomma e davanti a tutto questo i sauditi sono disposti a giocarsi un po' tutto perché però la strategia iraniana per il momento è vincente è vincente non soltanto dal punto di vista delle risorse economiche dalla possibilità che ha il mercato iraniano eccetera ma che c'è anche un aspetto ideologico religioso come si è capito perfettamente bene l'ideologia wabita dei sauditi è stata quella che ha alimentato in questi decenni gran parte dei gruppi jihadisti e ora a questo punto l'Occidente cerca di bilanciarla cioè forza la tua analisi si è capito bene che tutta la matrice terroristica islamica prima Al-Qaeda poi l'ISIS ha trovato fondamento nell'ideologia io non la chiamo neanche religione wabita che è saudita cioè questo islam radicale che poi ha partorito una volta si chiamavano compagni che sbagliano insomma mi sembra eufemistico e invece l'Iran oggettivamente non ha partorito nessun se lasciamo stare gli Hezbollah ma che esistono in quella situazione in Libano da decenni non è responsabile di nessuna deriva terrorista in tutto questo però c'è un convitato di Pietro o meglio era invitato ma non abbiamo parlato che è la Russia perché la Russia non riesce a reggere ancora oggi il rublo si è di nuovo svalutato non riesce a reggere questi prezzi di petrolio e del gas a lungo attenzione io non dico che l'Iran non sia responsabile di azioni terroristiche no no nella percezione che abbiamo noi è che oggi l'Iran è un oggettivo alleato per esempio contro l'Isis e il califato questo non c'è dubbio no come lo sono i curdi in buona parte e come lo è diventato volente o nolente anche Assad l'irruzione della Russia è stata per esempio in un certo senso una carta strategica iraniana ben giocata cioè gli iraniani sono riusciti a tirare dentro al conflitto siriano Putin che ha sostenuto il regime lo ha salvato e adesso a loro volta stanno aumentando la loro presenza militare in Siria sia con i Pazdaran che con l'esercito regolare questo che cosa significa però? significa che ci sarà un enorme aumento della tensione che ognuna di queste guerre non è per nulla finita e che se i sauditi imboccano la via di uno scontro diretto beh a questo punto signori altro che migranti e che profughi tu hai ragione citavo anche la Russia perché la Russia nel frattempo preme perché si arrivi invece a un tetto sulla produzione di petrolio e di gas che porti un po' in rialzo i prezzi perché nel gas e nel petrolio è la principale fonte di bilancio e sappiamo come va l'economia russa sappiamo anche le conseguenze dell'embargo statunitense europeo e da lì arrivavano anche grosse pressioni grazie come sempre per la chiarezza e la profondità di analisi da Alberto Negri Traffico Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti